Sicuramente ci sono tante cose da mettere a posto, da migliorare, sia a livello mentale che a livello proprio tecnico, fisico. Però quando devi vincere per forza non è mai facile, quindi magari un po' di tensione, un po' di emozioni hanno giocato brutti scherzi in alcuni momenti della partita dove avrei preferito più gestione e più tranquillità, però prendiamo atto di questo proprio per migliorarci in vista della prossima partita. Grazie.